Nella puntata precedente Grazie a tutti Passato dello Stelvio, adesso scendiamo Adesso scendo E Direzione Lago di Resia Finalmente Iniziamo 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 però stia registrando quella dietro Sant'Valentin e Heidegg guardate che spettacolo che è il lago di Eresia c'è un vento assurdo e c'è anche freddo e c'è anche freddo eccolo lago di Eresia nella sua splendidità splendidità? mamma che cacchio ho detto alla sua splendidità però devo girare non c'è assolutamente un po' scarico da girare se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace iscriverti al canale condividere il canale e ricordarti di attivare la campanellina per restare sempre aggiornato con i nuovi video ciao 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 ciao